buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a una finestra sulla scienza dello spirito ciao da stefania e ciao da maria grazia e allora eccoci qua di nuovo per il nostro consueto appuntamento quindicinale e come sapete chi insomma chi ci ascolta sempre tutte le settimane stiamo facendo tutto un percorso che riguarda le favole abbiamo fatto la settimana scorsa anzi per due puntate due puntate di fila abbiamo parlato di barba blu e in questa puntata invece parleremo della fiaba di frau holle e poi maria grazia ci spiegherà e ci dirà tutto quanto tutti i significati iniziatici e spirituali che ci sono in questa favola ma prima noi vorremmo ricordare i nostri appuntamenti come facciamo sempre all'inizio della nostra trasmissione allora io dico subito che per quanto riguarda noi me e paolo non ci sono degli appuntamenti diciamo prossimi ce ne sarà uno fra un mese circa il weekend del 13 14 15 di dicembre e sarà un corso di tarocchi insieme anche alla nostra amica giusi giusi gatti che abbiamo citato più volte e questo corso sarà in umbria a cerreto di spoleto ed è organizzato dal canale youtube il punto di vista da adrian fiorelli che sicuramente molti di voi conoscono perché è un canale youtube molto attivo per quanto riguarda gli argomenti sia di controinformazione che di spiritualità ed esoterismo quindi è lui che organizza quindi se volete maggiori informazioni su questo corso potete contattare direttamente adrian e basta l'unico appuntamento diciamo è questo perché per il momento non ce ne sono altri invece maria grazie anche tu hai dei dei appuntamenti prossimi proprio nelle prossime settimane giusto sì ci sarà questo appuntamento seminario con matteo gazzolo e l'iniziazione la costruzione del tempio interiore che terremo il 7 e l'8 di dicembre a via mercalli che è sita ai parioli e per prenotare per chi volesse appunto seguire questo seminario vi do il numero di telefono 334 300 9 3 4 5 lo ripeto 334 300 9 3 4 5 poi comunque lo trovate anche su facebook pubblicizzato sia da matteo che da me che da adriano che si occupa delle prenotazioni infatti il numero di telefono è proprio quello di adriano e mi piace appunto raccontare quello che è la sintesi di questo nostro seminario la presentazione che è stata fatta da matteo e da me nel tempo presente tutte davanti a noi si rivelano le forze evolutive e forze distruttive è il tempo della nuova iniziazione avviene ora l'incontro con il piccolo guardiano della soglia lo specchio interiore nel quale ci confrontiamo con il nostro doppio chi affronta questa prova dell'anima si avvicina all'incontro con il grande guardiano della soglia il Cristo esercitarsi nel tempo della nuova iniziazione è accendere il morto pensiero è disincantamento è il risveglio della fantasia morale è il nostro sorgere nella libertà e nell'amore così forgiando le nostre anime prova dopo prova costruiamo il nostro tempio interiore quindi questa è la sintesi quindi di tutto quello che avverrà faremo anche e soprattutto degli esercizi pratici che sono fondamentali un lavoro che non è non sarà soltanto qualcosa di teorico e quindi le persone che hanno intenzione volontà voglia anche di fare un lavoro insieme agli altri e noi saremo il 7 e l'8 dicembre così come possiamo dire aperti a questa avventura eh sì tra l'altro è anche una data particolare perché l'8 dicembre è proprio immacolata esatto e quindi è una ricorrenza molto particolare sì il fatto che parliate di questo proprio in questa data direi che è significativo e poi mi è piaciuta molto anche la locandina che l'ho vista adesso che me l'hai mandata perché ho visto che avete usato la stessa immagine che abbiamo noi come come logo della nostra trasmissione che è questo dipinto meraviglioso di questo pittore che consiglio a tutti di guardare le sue opere ne trovate tantissime anche semplicemente digitando su google che è Harald Rosenkranz è davvero delle delle opere dei dipinti veramente evocativi e quindi mi è piaciuto particolarmente il fatto che abbiate usato proprio questa immagine per dare proprio il senso dell'iniziazione sì è perché proprio le i suoi dipinti rappresentano la realtà del mondo spirituale quindi è proprio evocativo in questo senso di qualcosa che vive dentro di noi sì e allora a questo punto dopo aver ricordato gli appuntamenti passiamo al tema della puntata che è la favola di Frau Holle allora questa favola è una favola prettamente germanica infatti in tedesco quando nevica le persone hanno un modo molto familiare di dire Frau Holle si rifà il letto e allora significa che sta nevicando quindi come magari noi italiani adesso non più però mi ricordo quando ero piccola e fuori tuonava mia nonna diceva ecco è nonno in carrozza così Frau Holle si rifà il letto e il modo di dire che hanno i tedeschi quando nevica ed è una bellissima le marionette o anche con i burattini tirati da fili ed è molto molto importante per quello che riguarda il tema del lavoro interiore del rapporto con la soglia con il mondo spirituale l'operosità fondamentale sia qui sulla terra che nel mondo dello spirito frau Holle una vedova aveva due figlie una bella e brava e l'altra brutta e fannullona ma lei voleva molto più bene alla brutta fannullona perché era vera figlia sua e il lavoro toccava tutto all'altra che era proprio la cenerentola di casa la povera ragazza doveva passare le sue giornate all'aperto accanto a un pozzo e li filare e filare finché non le sanguinavano le dita così accadde che un giorno la conocchia le si sporcò tutta di sangue e nel lavarla sporgendosi sul pozzo le scivolò di mano e andò a fondo la ragazza corse piangendo dalla matrigna e le raccontò la disgrazia ma la matrigna la rimproverò aspramente hai fatto cadere la conocchia disse con durezza e ora valla a riprendere la fanciulla ritornò al pozzo ma non sapeva come fare per ripescare la conocchia e finì che saltò nel pozzo disperata perse i sensi e quando si rieppe era in un bel prato il sole splendeva e c'erano miriadi di fiori si incamminò per il prato e arrivò ad un forno pieno zeppo di pane e il pane gridò ai tirami fuori tirami fuori se no brucio è tanto che son cotto allora la fanciulla si avvicinò al forno e tirò fuori con la pala uno dopo l'altro tutti i pani poi si rimise in cammino e arrivò a un albero carico di mele e l'albero gridò ai scuotimi scuotimi noi mele siamo tutte mature allora la fanciulla lo scosse facendone piovere le mele e seguitò a scuoterlo finché non ce ne restò nemmeno una poi ne fece un bel mucchio e si rimise in cammino finalmente arrivò ad una casina a cui stava affacciato una vecchia con dei grandi entoni ne ebbe paura e scappò via ma la vecchia le gridò dietro di che cosa hai paura resta con me se farai tutte le faccende per bene non avrai a pentirtene dovrai solo stare attenta a rifar bene il mio letto e a sprimacciare il piumino a dovere le piume devono volare perché nel mondo nevichi io sono la frau holle poiché la vecchia le aveva parlato con benevolenza la fanciulla si fece coraggio e accettò entrò dunque al suo servizio e a tutto provvedeva secondo i suoi desideri il piumino lo sprimacciava sempre e le piume volavano dappertutto come fiocchi di neve né si può dire che non ne fosse ripagata se la passava bene dalla vecchia mai un rimprovero e lesso e arrosto tutti i giorni trascorse così un certo tempo ma poi si fece triste e da principio non sapeva perché nemmeno lei poi si accorse che era nostalgia qui stava mille volte meglio che a casa eppure quello che le mancava era proprio casa sua e alla fine disse alla frau holle mi è venuta nostalgia di casa qua giusto benissimo ma non posso continuare a starci bisogna che torni lassù dai miei la frau holle era d'accordo mi fa piacere disse che tu desideri tornare a casa e sarò io a riportartici per premiare la fedeltà con cui mi hai servito la prese per mano e la condusse davanti ad un portone il portone fu aperto e nel momento in cui la fanciulla lo varcava cadde una pioggia d'oro e l'oro le restò attaccato addosso ricoprendola da capo a piedi è il tuo premio perché sei stata volonterosa disse la frau holle e le rese anche la canocchia caduta nel pozzo poi il portone si richiuse ed ecco la fanciulla si ritrovò su nel mondo non lontano dalla casa della madre e quando entrò nel cortile il gallo stava sul pozzo e cantò chicchirichi la figlia tutta d'oro torna qui la fanciulla entrò in casa e coperta d'oro com'era madre e sorella le fecero buona accoglienza raccontò tutto quel che le era successo e quando la madre seppe come le era piovuta addosso tutta quella ricchezza volle che piovesse anche sulla brutta fannullona e le disse di mettersi a filare accanto al pozzo perché le si insanguinasse la canocchia la fannullona si punse le dita infilando la mano tra le spine di un rovo poi buttò la canocchia nel pozzo e ci saltò dentro anche lei si ritrovò nel bel prato come la sorella e si avviò per lo stesso sentiero quando poi arrivò al forno anche a lei il pane gridò ai tirami fuori tirami fuori è tanto che son cotto ma la fannullona rispose figurati mi sporcherai tutta e andò per la sua strada poco dopo arrivò al melo che gridò ai scuotimi scuotimi noi mele siamo tutte mature ma lei rispose non ci penso nemmeno per farmene cascare una sulla testa e andò per la sua strada quando poi arrivò alla casa della frau holle i suoi dentoni non la intimorirono perché era già stata avvertita entrò subito al suo servizio e il primo giorno si fece forza lavorò di lena e obbedì agli ordini della frau holle pensando a tutto l'oro che le avrebbe regalato ma fin dal secondo cominciò al portrire e la mattina del terzo non voleva saperne di alzarsi anche il letto della frau holle non lo rifaceva come si conveniva non sprimacciava il piumino e le piume non volavano la frau holle finì per stufarsi e la licenziò la fannullona non se ne dispiacque perché credeva che fosse venuta l'ora della pioggia d'oro e la frau holle la condusse sì al portone il momento in cui la fannullona lo varcò non fu oro a piovere ma un paiolo di pece a roversiagli si addosso questo per i tuoi servizi disse la frau holle e chiuse il portone allora la fannullona tornò a casa tutta impiastricciata di pece e il gallo sul pozzo quando la vide cantò chicchirichì la figlia tutta sporca torna qui la pece le rimase appiccicata finché visse e non ci fu verso di spiccicarla questa è una fiaba molto bella perché racchiude in poche righe un mondo di significati qui vediamo appunto una vedova aveva due figlie una bella e brava l'altra brutta fannullona e fa capire appunto che la vera figlia la vera sua figlia era quella brutta e fannullona quindi qui parliamo di una condizione della potremmo dire della terra che si è in qualche modo staccata da quello che è il mondo spirituale quindi la matrigna lei non ha nome quindi è soltanto la figlia bella e brava è rappresentativa la matrigna di tutto l'astrale inferiore sul quale ognuno di noi dovrebbe lavorare su tutto quello che è brama su tutto quello che è possessività e fra l'altro il preferire ciò che è brutto ciò che è bello se noi facciamo un attimo il punto anche di come siamo arrivati nella nostra società a questo punto dove viene promulgato il brutto e dove il bello viene negato la bellezza e la bravura oggi abbiamo di fronte a noi in questa società che cosa l'arroganza l'ignoranza più le persone sono stolte incapaci e più in qualche modo non hanno coscienza morale e più vengono reclutate da questa società anche svolgendo dei ruoli di potere quindi questa favola che comincia già così mette in luce qualcosa che è sotto gli occhi di tutti questa è la grandezza delle favole perché poi lavorando interiormente quando in qualche modo meditiamo su una favola ci rendiamo conto che la troviamo vivente nel sociale qualora appunto noi si sia veramente attenti alle parole che la favola porta come messaggio dal un lontano un lontano tempo perché questo è stato il dono delle antiche iniziazioni quindi questa fanciulla viene trattata malissimo proprio come la cenerentola quindi qui viene anche rappresentata l'importanza dell'operosità in quanto il mondo spirituale noi sbagliamo a immaginarlo soltanto come un mondo fermo contemplativo lì si opera costantemente quindi l'opera cosmica l'opera della creazione è ancora in atto quindi non è in nessun modo terminata e questa condizione a questa fanciulla veniva imposto di filare vicino al pozzo quindi il pozzo è chiaramente la rappresentazione della profondità il pozzo va fino all'interno della terra quindi prima si scavavano i pozzi e si sapeva che scavando il pozzo si sarebbe incontrata l'acqua quindi tutta la via iniziatica qui siamo in un percorso iniziatico porta nelle profondità interiori quindi in un lavoro profondo interiore il filare che la fanciulla bella e brava realizza lo dobbiamo appunto rappresentare così quando noi rammendiamo rammentiamo quindi nell'elemento del filare del cucire l'elemento della conocchia che era appunto insieme al fuso necessaria per la tessitura noi sappiamo che tutta l'opera cosmica è un intessere che lo stesso nostro destino il destino di ognuno di noi è intessuto possiamo dire da queste forze spirituali che tessono che tramano quindi la trama la trama del nostro destino quindi lei in un momento molto particolare dove si sta collegando ed è la rappresentazione dell'anima umana ancora incontaminata quindi dell'anima umana che si è preservata dalla caduta per questo questa favola è molto importante perché viene una parte dell'anima umana preservata dalla caduta quando ci fu la caduta di Adamo ed Eva quindi lei è collegata a queste forze spirituali nella sua bellezza nella sua bravura e quindi lavora si sforza costantemente di filare e filare fino a che non le sanguinavano le dita e qui c'è il motivo del sangue il sangue che è il veicolo dell'io quindi il sangue che è rappresentativo della forza del Cristo il sangue versato sul Golgotha che scorre all'interno di noi stessi e nel momento in cui c'è questo collegamento quindi ci sentiamo di avere all'interno questa forza del Cristo attiva etericamente nel nostro sangue e lo eterizza abbiamo la capacità quindi di rivolgerci al mondo di rivolgerci agli altri e alla natura con un altro atteggiamento perché il Cristo rappresenta veramente il pensiero universale il logos la parola universale che vive dentro di noi il logos cosmico quindi che ci procura l'elemento d'amore e di unità pur nella nostra individualità ci si sente collegati a tutti i mondi infatti vedremo che questa fanciulla è devota all'elemento della venerazione che è un elemento molto importante della devozione e della modestia quindi non è un essere arrogante un elemento anche che ha nell'anima è operosità e creatività non è una fannullona quindi in qualche modo accetta di lavorare insieme a tutte le forze cosmiche ma accade appunto che un giorno la conocchia che era tutta sporca di sangue lei cerca di lavarla per poter continuare a filare ma sporgendosi nel pozzo la conocchia le scivola via cade nel pozzo e quindi lei inizialmente non si addentra nel pozzo ma ritorna da sua madre quindi potremmo dire appunto questa madre matrigna che in qualche modo cosa dice vai assolutamente a recuperarla e quindi obbediente le ritorna nel pozzo e si addirittura nella disperazione salta dentro al pozzo quindi possiamo dire il destino carmico anche di ognuno di noi questa fanciulla bella e brava che alla quale è capitata questa madre spesso cosa accade che nell'incarnazione potremmo trovarci in una famiglia dove c'è veramente poco da spartire si esiste un legame di sangue ma fino a un certo punto qui il protagonista è il sangue non è più il sangue e l'ereditarietà che in qualche modo conta in questa favola quindi la la fanciulla non ha nulla che spartire a volte le persone che nascono avendo all'interno una purezza interiore coloro che si ricordano perché qui rappresenta anche la storia di coloro che hanno presente il mondo spirituale che si sentono spesso diversi da tutti i componenti della famiglia e vengono trattati anche male dagli altri componenti della famiglia proprio perché ognuno di noi ha un io che viene da incarnazioni precedenti ognuno di noi ha una ripetizione di vite e ognuno di noi ha fatto un percorso in vite precedenti quindi e nel mondo spirituale e cosa accade che magari si è lontanissimi da un fratello da una sorella o da una madre che vivono le cose in modo materialistico la bruttezza di questa altra è una bruttezza che non dobbiamo soltanto immaginare fisica ma è la bruttezza di coloro che cadono nell'elemento materiale che si fanno sovrastare dall'elemento della densità che perdono il senso del lavoro interiore il senso della vita che è lavorare su se stessi quindi veniamo qui sulla terra per poter migliorare per poter lavorare questo tramare questo filare è una rappresentazione di un lavoro di pensiero quindi il pensare mentre le altre ma la matrigna e la figlia brutta sono esseri che si lasciano vivere potremmo dire si lasciano pensare che hanno pensieri che sono ordinari densi che non servono poi a uno sviluppo interiore l'altra ragazza quindi potremmo dire fino ad arrivare a far sgorgare il sangue dalle sue dita invece cuce mette insieme rammenda fa in qualche modo filare un pensiero riprende il filo del pensiero riprende questo collegamento con il mondo spirituale con i pensieri viventi e quindi cosa accade che nonostante questa condizione di destino difficile le viene detto la devi recuperare queste sono le prove della vita dove a volte anche l'ostacolatore può diventare il nostro aiutante quindi è attraverso le prove che ci vengono date che risvegliamo in noi delle forze che erano latenti quindi lei nel momento della disperazione e la disperazione è un momento molto importante nella vita perché quando proprio si è disperati si apre un barco accade qualcosa è il momento in cui c'è una conversione improvvisamente la nostra vita prende un'altra direzione quindi c'è questo momento fondamentale che lei vive quindi perde i sensi e si ritrova e qui siamo in una situazione di iniziazione vera e propria perde i sensi e si ritrova in questo meraviglioso prato comincia ad incamminarsi questo prato era illuminato dal sole e incontra come prima cosa un forno che era pieno zeppo di pane e il pane grida aiutami tirami fuori perché sono cotto altrimenti brucio il pane è la rappresentazione dell'aspetto collegato all'elemento fisico pensiamo al padre nostro quando incontriamo dacci oggi il nostro pane quotidiano e lì abbiamo un collegamento con l'elemento fisico il calore è come una riminescenza dell'antico saturno quindi della prima manifestazione della terra quando ancora non era nella densità ma esisteva il calore che ha permesso quindi che si potesse in qualche modo realizzare la fisicità dell'uomo che inizialmente nell'antico saturno era solo in una forma di calore e quindi è come ricordare questo momento importante del collegamento con queste forze spirituali vengono chiamate prima gerarchia serafini che rubini e troni sono appunto spiriti delle forze la prima gerarchia rappresenta questo proprio questo elemento della forza poi passerà vicino a questo albero di mele carico di mele tra l'altro le mele fanno parte della famiglia delle rosacee di cui fa parte anche la rosa fa parte anche la pera quindi la mela porta chiaramente al collegamento con il giardino edenico con l'eden le mele sono mature e chiedono di essere scosse di poter essere raccolte quindi cosa che lei farà quindi siamo di fronte all'elemento della pianta siamo di fronte all'elemento dell'eterico siamo di fronte all'elemento delle forze della luce quindi e sono rappresentate chiriotetes dynamis exusiai quindi forze della luce perché ha bisogno della luce l'albero per poter sorgere e quindi siamo in un momento simbolico la rappresentazione quindi di forze che si realizzano all'interno dell'essere umano e quindi lei farà un atto giusto di volontà raccoglierà le mele fra l'altro la mela anche il mela malus quindi l'elemento della mela che contiene anche come simbologia la tentazione luciferica lei in qualche modo sta incontrando in questa condizione di iniziazione quasi in modo invisibile sta scegliendo fra l'operosità evolutiva e fra quello che può essere la tentazione luciferica che vedremo nella quale cade invece l'altra ovvero non mi do da fare non scuoto l'albero non faccio cadere le mele non divento operativo in modo creativo per la creazione non apporto niente e quindi c'è proprio questo egoismo che vedremo rappresentato fortemente nella fanciulla brutta quindi nella parte dell'anima che è caduta e che è completamente soggetta alle forze egoiche mentre qui abbiamo la risoluzione sì io scuoto tutto questo quindi entro in una condizione di operosità riconosco questo momento divento attiva e non solo ma le mette ordinatamente in fila dopo che le avrà fatte cadere e finalmente arriva in questa casa dove c'era questa donna che aveva dei grandi dentoni e lei ne ebbe paura cosa rappresentano i denti i denti rappresentano una condizione collegata a a Saturno e qui siamo in una condizione anche Saturnia se volete i denti noi li cambiamo con il tempo c'è una prima dentizione che ci viene data regalata poi cadono c'è la seconda dentizione i denti nella vecchiaia deperiscono anche e quindi segnano il tempo quindi la foratura del dente è sotto l'elemento di Marte per esempio quando il bambino soffre profondamente quando ha la prima dentizione ma il dente in generale è collegato alla funzione di Saturno tanto appunto che anche nei sogni quando sogniamo di perdere un dente a parte che la paura del tempo che passa ma può essere anche la perdita di qualcuno che è molto vicino a noi c'è tutta questa simbologia con la perdita appunto dei denti lei ne ha paura è un simbolo per rappresentare quindi l'antica situazione terrestre quindi la memoria cosmica Frau Holle in realtà rappresenta proprio la coscienza cosmica che è collegata a Saturno quindi all'antico Saturno che contiene in sé tutto tutto il percorso non solo carmico individuale della persona questa è un'altra cosa perché è più collegato alla dimensione della della luna dove noi nell'orbita lunare nel periodo del Kamaloka rivivremo a ritroso la nostra esistenza quindi qui è un altro tipo di memoria è la memoria cosmica è proprio come si inserisce l'individuo nella generale creazione come ci sia anche bisogno del nostro apporto come umanità nella creazione e quindi le dice non avere paura e si rivela quello che per lei è fondamentale è rifare bene il letto e sprimacciare il piumino a dovere perché le piume devono volare perché nel mondo neviche io sono la Frau Holle e qui c'è tutto il motivo appunto della neve la neve con la sua purezza con la perfezione mandalica dei suoi cristalli perché i cristalli di neve sono appunto dei mandala di una meraviglia straordinaria in più la neve attutisce se avete avuto esperienza di stare in luoghi dove ci fosse la neve attutisce tutti i rumori e possiamo dire che la neve riesca ad ammorbidire tutti gli angoli quindi è come è come se fosse veramente una mano di dolcezza che si posa sulla terra ma in più c'è qualcosa che racconta in realtà il nostro io l'io di ognuno di noi dormiva inizialmente nel seno della divinità è soltanto in questa fase che noi chiamiamo terra dove le cose si addensano e dove l'atmosfera si adombra che noi abbiamo potuto dire io a noi stessi non non sarebbe stato possibile nella fase chiamata antica luna non sarebbe stato possibile nell'antico sole né sull'antico saturno ma qui sulla terra c'è la nascita di questo quarto arto oltre al fisico all'eterico all'astrale noi siamo dotati appunto di un io questo quarto arto importantissimo allora questo momento così bello dello sprimacciare questo grande piumino dove sono contenute tutte queste piume immaginiamolo e mi piace tra l'altro spiegarvelo attraverso le parole di Steiner si prenda un bicchiere d'acqua in esso molte gocce sono contenute entro il liquido che lo riempie ed ora si prendano mille piccole spugne si immergano nell'acqua cosicché ognuna di essa ne assorba una goccia avremo così assorbito dal bicchiere molte gocce d'acqua e avremo ripartito nelle diverse piccole spugne ciò che prima esisteva nel bicchiere in forma fluida unitaria ciò che oggi è in noi e che prima stava nel grembo della divinità come in un elemento universalmente fluttuante si ripartì allora nei singoli corpi umani cosicché oggi ognuno di noi ha in sé una goccia di quella sostanza divina unitaria in tal modo si individualizzò ciò che prima era solo una parte della natura divina generale come le mie dieci dita sono membra del mio organismo così le anime che oggi dimorano nei corpi umani sono membre dell'umanità è come se ogni dito si individualizzasse come se ogni dito conquistasse una vita propria circondandosi di altri involucri similmente le gocce che prima riposavano in grembo alla divinità diventano entità umane interiori e quindi le piume che prima stavano tutte raccolte dentro questo piumino quando il piumino viene ben sprimacciato diventano piume che cadono ogni piuma diventa un fiocco di neve è l'individualizzazione l'interiorizzazione quando noi vediamo scendere la neve in realtà si ha sempre una gioia perfetta che scende nell'anima è difficile che le persone non abbiano questa commozione perché pensate al giro che ha dovuto fare l'acqua per arrivare ad una grande purificazione probabilmente quel fiocco di neve prima poteva essere anche stato una goccia d'acqua fangosa quindi c'è stato un lavoro c'è stata una trasformazione che si è realizzata una purificazione qualcosa che arriva dall'alto quindi non è come la pioggia noi vediamo questa discesa della neve in fiocchi che sono individualizzati non è la stessa cosa quando cade la pioggia quindi è oltretutto anche neve portatrice anche se sembra qualcosa di gelido lì per lì però quando si poggia sul terreno crea una condizione giusta perché il seme possa germogliare perché possa trovare la forza di radicarsi questa neve è come una coltre che in qualche maniera fa in modo che la terra non perde il suo calore interiore quindi è un'operazione importante nell'alchimia infatti c'è tutta una parte che viene considerata come opera al bianco è un lavoro quindi sull'astrale sulla liberazione da tutti i condizionamenti e viene spesso rappresentata dalla formazione delle colombe bianche quindi questo elemento della neve rappresenta questa purezza d'opera prima che si possa arrivare all'opera totale al rosso quindi qualcosa il rosso è il colore fra l'altro del nostro sangue quindi lì dove l'io cristico ha profondamente lavorato all'eterizzazione del sangue e qui chiaramente lei fa tutto questo con grande volontà perché nel mondo spirituale il lavoro è sempre continuo fatti tante volte quando qualcuno annuncia la morte di un congiunto o di un amico spesso la gente risponde rip che sarebbe resti in pace resti resta in pace a seconda se è in inglese oppure in italiano ma in realtà noi dobbiamo toglierci quest'immagine di un'immobilità di un immobilismo indubbiamente la pacificazione interiore e la serenità la calma la gioia è una componente fondamentale del mondo dello spirito ma chi lascia il corpo fisico comincia a lavorare insieme alle gerarchie alla tessitura potremmo dire del proprio destino quindi prima c'è tutta una revisione di quello che è stata alla nostra vita poi c'è l'entrare in rapporto quando si entra nel mondo spirituale con delle scuole quindi la scuola di mercurio collegata alle forze angeliche dove in effetti noi scopriamo queste entità che si nascondono dietro le nazionalità dietro i diversi linguaggi ciò che noi oggi non vediamo ciò che in effetti avvertiamo come il risuonare di una lingua diversa beh quella lingua è diversa perché c'è un'entità arcangelica diversa a produrre questo suono tanto che l'esperienza del suono l'esperienza della parola della nostra stessa parola è l'esperienza che abbiamo con l'arcangelo per cui per esempio le persone che parlano in modo greve in modo disarmonico con dei ritmi meccanici e tanto più pensate le persone che magari infarciscono il loro parlare di parolacce se non di bestemmie è la negazione dell'arcangelo all'interno quindi noi attraverso il linguaggio attraverso il lavoro sulla parola abbiamo questa condizione quindi sul piano di mercurio non incontriamo solo la nostra nazionalità e quello che sarà la nazionalità futura che sceglieremo ma in effetti è proprio il risuonare della parola cosmica che sentiamo in noi e come l'abbiamo partecipata e come vorremmo parteciparla è l'interesse anche di comunicazione con gli altri che viene messo in luce ma attraverso una parola vivente quindi non una parola buttata lì attraverso una frequenza arcangelica che vive in noi quindi nel mondo spirituale noi scopriamo che queste entità non erano l'altro mondo ma erano noi eravamo il mondo di queste entità che in effetti operano all'interno quindi lei in questa dimensione con Frau Holle ha l'esperienza di essere ben nutrita è in grado di prendere i doni che Frau Holle le dà ma questi doni in qualche modo lei insegna alla fanciulla come sprimacciare come poter fin in fondo riflettere lavorare sull'elemento del pensiero perché l'io e il pensare sono un'unica cosa noi abbiamo la possibilità di memoria perché abbiamo un corpo eterico sì ma perché ci riporta immagini della nostra realtà passata ma noi abbiamo in realtà la nostra memoria che è l'io che portiamo con noi di incarnazione in incarnazione che deve imparare a sprimacciare bene quello che in effetti si deve poi diffondere sulla terra quindi in qualche modo dobbiamo imparare a lavorare essendo presenti quindi facendo attenzione a quello che facciamo agendo muovendo muovendo l'elemento della volontà perché ci vuole tanta energia per sprimacciare questo piumino e allora qui cosa viene detto il lavoro che tu fai il lavoro che realizzi su di te di questo tuo sforzo se ne gioveranno tutti perché se non sprimaccerai bene il piumino non nevicherà sulla terra e se non nevicherà sulla terra non sarà soltanto qualcosa che si rifletterà negativamente sull'umanità ma su tutti i regni della natura quindi qui è proprio una grande momento di profonda riflessione la mia azione il mio lavoro il mio sforzo è per la creazione quindi in qualche modo partecipano tutti di questo mio sforzo io lo do per l'evoluzione creativa di questa opera cosmica Stefania siamo al momento della musica sì siamo al momento della musica e la canzone che ho scelto oggi è una canzone di Franco Battiato che si intitola vite parallele e parla di reincarnazione di vite già vissute ma anche come dice il titolo stesso di vite parallele che noi viviamo in altri mondi in altre dimensioni parla del ricordo del mondo dello spirito parla anche del timore della dimenticanza che è proprio una delle cose di cui tu hai parlato prima Maria Grazia quindi è una canzone molto bella molto significativa dal punto di vista del testo scritta insieme a Maglio Sgalambro tratta dall'album del 1998 Gomma Lacca che è quel famoso album dove c'è anche Shock in MyTown noi abbiamo spesso citato e quindi ora ci ascoltiamo Vite Parallele di Franco Battiato ti mando il testo come al solito e poi ritorniamo qui ed eccoci di nuovo qui dopo Vite Parallele di Franco Battiato molto bella anche molto criptica perché sì infatti si sente anche l'impronta di Sgalambro perché ci sono alcune frasi che sono proprio tipiche sue da filosofo perché di fatto Sgalambro questo era e si interseca con la visione invece più spirituale che era quella di Battiato sì perché in effetti qua c'è anche nascosto il fatto che noi non abbiamo un io ma tanti io fino a che svolgiamo un lavoro su noi stessi ed era un po' l'immagine che aveva preso dalla Quarta via Battiato perché lui aveva avuto come maestro Thomas Son per cui le tante vite parallele perché anche collegata alla nostra molteplicità perché fino a che non si svolgeremo un lavoro interiore troveremo il nostro io spirituale l'io spirituale che cosa accade accade che costantemente ci sono vari personaggi in noi e a volte anche rivedendo la nostra vita ritornando indietro con la memoria ci chiediamo ma ero veramente io e ci sembra di aver vissuto tante vite tante fasi della nostra esistenza quindi delle volte addirittura in certi momenti si può pensare che in un altro luogo in un'altra dimensione spazio tempo ci sia un aspetto di me stesso che sta facendo un'esperienza a volte accade anche nei sogni perché quando sogniamo noi spesso ci troviamo con persone in situazioni in altri luoghi che però nel sogno riconosciamo persone che sappiamo nel sogno essere con noi e facciamo con queste persone delle azioni e quando arriviamo a svegliarci la mattina diciamo ma è come se io avessi vissuto qualcosa da un'altra parte in un'altra situazione o ho avuto percezioni di altre condizioni infatti quando si fa un lavoro su di sé si comincia in effetti a vedere la propria vita con diverse con un diverso atteggiamento si è molto meno coinvolti personalmente infatti la liberazione del pensiero porta all'universalità e alla impersonalità in modo da potermi osservare in modo impersonale che non significa freddezza ma mi dà la possibilità vera di poter vedere quello che realmente vive all'interno di me stesso senza per questo dare un giudizio ma essere obiettivi nei confronti di noi stessi quindi il fatto che ci possano essere ecco una cosa che io sulla quale ho riflettuto negli ultimi periodi anche dai discorsi che abbiamo fatto con Pascal che è un nostro carissimo amico e non crediate che questo universo sia infinito perché la stessa traiettoria e questa è una cosa illuminante che ha detto Rudolf Steiner io l'ho sentita risuonare profondamente in me la stessa luce del sole poi ha un punto di ritorno ritorna al sole perché tutto in qualche modo ha questa forma dell'infinito che è una lemniscata per cui alla fine c'è sempre un ritorno e tutto ritorna proprio come il famoso boomerang che ritorna potremmo dire una legge universale per cui l'universo non è così enorme come noi lo si possa immaginare quindi dobbiamo anche pensare che forse è molto più vicino tutto non dico vicino allungando la mano ma fra l'altro il fatto stesso che noi siamo microcosmo nel macrocosmo già all'interno di me stesso vivono tutte quelle condizioni che trovo fuori di me noi abbiamo la via lattea le varie galassie la nostra struttura le rappresenta pienamente delle volte quando si guarda un un globulo rosso al microscopio sembra di stare nella meraviglia proprio stellare cosmica quello che accade appunto è renderci conto che noi siamo corona della creazione perché noi possiamo prendere pienamente consapevolezza della creazione quindi e questa questa storia anche questo suo dire tu pretendi esclusività di sentimenti non me ne volere perché sono curioso bugiardo infedele è anche una visione reale su noi stessi quindi in realtà chi dice questo è un essere che è in grado di vedere come ci siano tanti io come ci sia in qualche modo questo elemento anche dell'essere bugiardo perché costantemente noi cadiamo nell'obbrio e nella dimenticanza che era la cosa che lui dice credo nella reincarnazione ma temo sempre l'obbrio e la dimenticanza credo nella ripetizione di vite ma la cosa terribile è quando io mi dimentico proprio mi addormento quando faccio prevalere tutto quell'aspetto di me che è infedele che è infedele al mondo spirituale perché possiamo vedere proprio questa cosa l'esclusività di sentimenti non solo riferiti ad una persona ma in qualche modo questa curiosità che da una parte è bella l'aspetto mercuriale di noi stessi ma anche l'aspetto luciferico di noi stessi quindi una curiosità che poi ci prende la mano e che non ci fa poi approfondire completamente le cose da una parte la curiosità è un qualcosa di benefico ma quando è eccessiva diventa qualcosa di malefico la persona curiosa può diventare appunto schiava stessa della sua curiosità e così l'essere bugiardi di fronte a noi stessi infedeli rispetto al compito che ci siamo dati fra una morte e una nuova nascita e quello che abbiamo preso come responsabilità di missione nel mondo spirituale la stiamo portando avanti è questo il punto interrogativo sto facendo qualcosa di vero lavorando dentro di me tirando fuori tutti gli aspetti di me osservandoli creando un laboratorio interiore di osservazione attraverso un pensare che sia un pensare oggettivo impersonale è universale è universale perché debbo pensare che quello che risulterà da me risuonerà poi nel cosmo questo risuonare e me lo ritroverò quindi ognuno di noi dovrebbe in qualche modo chiedersi sto veramente portando un qualcosa in più attraverso il mio sforzo alla creazione sto sprimacciando bene il piumino in modo che possano questi fiocchi di neve cadere sulla terra attraverso il mio lavoro senza perdermi nell'oblio nella dimenticanza nella bugia e poi ecco vivo vite parallele ciascuna con un centro con un'avventura e qualcuna che mi scalda il cuore quindi il io dovrei comparare la mia vita sulla terra per esempio quello che è una rappresentazione di qualcosa sulla terra che può essere doloroso può essere un male la perdita di qualcuno per esempio ma in una vita parallela che io magari realizzo già qua sul sole e mi collego agli spiriti della luce e quindi che cosa posso vedere che magari in questa perdita in questo passaggio di quest' anima ci può essere un contenuto molto bello magari ecco il suo sé spirituale aveva finito la sua missione e allora una parte di me qua sulla terra soffre un'altra parte di me seguendo magari il percorso di quest'anima oltre la soglia comprende che l'altro sta vivendo qualcosa di molto bello di un lavoro intenso e quindi spesso le nostre vite parallele sono quando ci interessiamo agli altri e allora la vita dell'altro scorre insieme alla nostra sia qua sulla terra sia nel mondo spirituale quando per esempio il nostro pensiero li coglie non come immobili ma come attivi e facenti parte della creazione che magari attraverso il nostro pensiero le nostre informazioni se ne possano giovare e così noi delle loro perché magari potrebbero ispirarci profondamente chiedendo anche aiuto dicendo pensiamo insieme e allora queste sono anche vite parallele e noi camminiamo insieme a tante altre persone e noi stessi all'interno se siamo arrivati a capire tante cose lo dobbiamo a persone che hanno vissuto delle vite parallele alle nostre magari non ci siamo incrociati ma sono state parallele alle nostre e pensiamo un che è quello che ha creato perché uno Steiner potesse realizzare l'antroposofia la scienza dello spirito è stato necessario prima che scendesse Goethe con il suo Faust che portasse questa condizione quindi di fatto è vari collegamenti e questo è anche magnifico perché noi allora così ci rendiamo conto che ci arricchiamo anche dell'esperienza degli altri delle vite degli altri di come magari in parallelo un'altra persona se io penso qualcosa qui arriva anche all'altra persona quindi giorni fa parlavamo con una mia amica di un cavallo che a cui sia io che Adriano vogliamo molto bene che purtroppo spesso è chiuso dentro un box perché la persona che lo gestisce che di cui è proprietaria la proprietaria non ha più tempo per poterlo cavalcare beh è accaduto qualcosa ne ho parlato così in modo accorato con questa persona e il giorno dopo questa persona ha chiamato Adriano dicendo non posso più tenere così il cavallo perché il nostro pensiero accorato era arrivato e c'è stata una risposta parallela e ha detto troviamo una soluzione è qualcosa di meraviglioso proprio dove attraverso il nostro pensiero possiamo arrivare alla vita di altri come in effetti possiamo creare queste traiettorie meravigliose e quindi penso appunto questa questa canzone che fra l'altro ti ringrazio perché era tanto che non la sentivo tutto questo tutta questa visione ci può veramente scaldare il cuore l'altro ci scalda il cuore ci scalda il cuore l'incontro con l'altro ci scalda il cuore la risposta dell'altro a un nostro pensiero che è stato pieno d'amore pieno di intenzione pieno di interesse interesse per un essere questo caso questo questo cavallo che non riceve più l'affettosità della persona e che in qualche modo è costretto è venuto fuori questo discorso così intenso in cui tutte e due compartecipavamo questa cosa ne abbiamo poi parlato con Adriano e c'è stato qualcosa è accaduto qualcosa ecco le vite parallele la risposta parallelamente il giorno dopo questa telefonata e successivamente ci incontreremo quindi bellissimo e io penso appunto sempre nonostante tutte le difficoltà della vita io penso sempre che non ci rendiamo conto di tanti miracoli che non ci rendiamo conto di tante risonanze che non ci rendiamo conto di come ha una nostra frequenza reale del nostro cuore che sente essendo sostenuto da un pensiero vivente e quindi può tirar fuori un sentire e muovere la sua corda ancora più fortemente possa creare delle modificazioni quindi delle dei cambiamenti di fatto questo è meraviglioso sì è davvero meraviglioso e io ringrazio te per queste riflessioni e anche per questo bellissimo racconto che hai fatto riguardo a questo cavallo è una storia molto bella davvero sì perché guarda purtroppo i cavalli non vengono compresi per la sofferenza che il proprietario dà perché vengono chiusi in questi box fatti uscire soltanto per fare quattro salti è caso di quattro salti in padella e poi rimessi dentro no no non è così il cavallo prima cosa non è fatto per saltare e crea un collegamento è la funzione dell'intelligenza è veramente la mia esperienza con con i cavalli è così è di cuore perché si collegano telepaticamente io posso dire questa cosa c'è un collegamento telepatico che il cavallo riesce a realizzare con chi sa accogliere questa condizione quindi diciamo ti potrei dire che il dolore di questo cavallo è arrivato così profondamente così intensamente giorni fa da smuovere delle condizioni e io ti dico non ci sono mai salita mai ho talmente un rispetto per i cavalli sono salita tanti anni fa una volta su un cavallo ma è quello che mi comunica una grande una grande commozione la loro interiorità poi quella fattispecie di questo cavallo è di un'affettuosità straordinaria e sto sentendo proprio in questi giorni tutto il suo sentire è una cosa stranissima e meravigliosa perché è stata per me anche una una risposta della vita quando si parla di loro accade qualcosa quando si fanno le conferenze per esempio sugli animali accade qualcosa ecco le vite parallele un livello di mondo risponde ecco questo che che abbiamo notato proprio con con Adriano per cui scusate qui c'è stata un'interferenza di casa perché l'altro perché l'altro è in qualche modo è stato neutralizzato no non so nemmeno come staccarlo sono in trasmissione che poi è l'unico che ci chiama Eurasio ebbè sono cose che succedono come si dice il bello della diretta è solo E d'altra parte questa questa è la vita è la vita reale con le sue cose belle eh sì ma poi con la riflessione che hai fatto poi chiudiamo questa parte e ti faccio proseguire sui miracoli quello che hai detto sui miracoli mi ha fatto ritornare in mente una frase molto bella di Giorgio Bonati che era un frate legato anche alla fraternità di Romena e poi anche ad altre realtà spirituali che purtroppo se n'è andato molto presto perché lui è morto qualche anno fa cinque anni fa proprio nei giorni scorsi c'era la ricorrenza ed era ancora giovane aveva cinquantacinque anni è morto in un incidente stradale e lui emanava amore io non l'ho conosciuto di persona purtroppo perché avrei voluto però conosco diverse persone che erano sue amiche o comunque che avevano avuto dei contatti con lui era veramente una persona meravigliosa e c'è questa frase che voglio leggere lui scrisse è sempre una scelta aver cura del nostro sguardo decidere da che parte e con quale attenzione puntare gli occhi avendo fede abbastanza da lasciare che la vita ci guidi e il meglio ormai l'ho imparato sta nelle piccole cose nei piccoli segni nei piccoli miracoli che ognuno di noi sa fare e questo è proprio quello che dicevamo prima i piccoli miracoli questo che è successo questo del cavallo è un piccolo miracolo di fatto solo che noi non siamo abituati a prestare attenzione a questi piccoli miracoli che ci accadono continuamente bellissimo è così proprio l'immensità del piccolo l'immensamente piccolo che è straordinario le parole di questo frate sono pieni di grande verità è questa e sicuramente vedi ecco noi vediamo l'incidente è morto in un incidente stradale ma tu immagina lo sai che le persone che hanno una morte improvvisa per incidenti in un terremoto in una catastrofe immettono all'interno una forza di volontà straordinaria questi passaggi così repentini permettono all'anima di poter avere a disposizione in vite successive una forza di volontà enorme e quindi chissà quante cose lui potrà fare a parte il mondo spirituale e quindi quali forze potrà rivolgere verso la terra perché lui saprà sprimacciare molto bene il piumino di Frau Holle quindi in qualche modo lui sarà una di quelle anime che lì darà un apporto così grande intenso perché in questo momento ne abbiamo profondamente bisogno e qui arriviamo per cercare di concludere la favola lei veniva nutrita quindi il nutrimento qui viene messo il lesso e l'arrosto perché allora erano dei piatti prelibati sono i doni le informazioni che vengono date in base a quanto la persona riesce a riconoscere lei riconosce che l'azione che Frau Holle le ha proposto è giusta e quindi nel mondo spirituale quando noi avremo attraversato la soglia e quindi saremo nel vero e proprio mondo spirituale le gerarchie vorranno darci dei doni ma se noi sapremo vederle perché se attraverseremo nell'ombra quindi isolati chiusi non riusciremo a riconoscere questi doni perché io ti faccio questo dono ti nutro ti do il dono in base a quanto tu però corrispondi ad un lavoro hai fatto un lavoro e allora lei viene nutrita riceve doni riceve informazioni quindi il nutrimento è questo nutrimento sovrasostanziale a un certo punto però lei viene presa dalla nostalgia di casa e voi potreste dire ma come mai ma perché perché chiaramente qui stiamo nel mondo sovrasensibile e quando scatta la cosiddetta mezzanotte cosmica l'entità l'anima umana sente che deve tornare sulla terra che il suo compito è quello di dare il suo apporto all'umanità quindi invece di stare potremmo dire in una beatitudine si sente la nostalgia per ritornare qua sulla terra so che tante volte le persone questa cosa la odiano ma è proprio l'impulso che nasce nell'anima nell'anima che all'interno sente proprio questo appartenere all'umanità come gerarchia e appartenere alla dimensione cosmica spirituale non c'è più un pensare solo per me a nostalgia di tornare e quindi lei dice tu mi hai servito nel modo più giusto tu sei stata volonterosa qui viene premiata la volontà quindi la volontà è fondamentale pace agli uomini di buona volontà è la volontà buona quindi che lavora non solo per il proprio torna conto ma lavora avendo sempre presente che noi lavoriamo insieme a tutti gli altri e per gli altri le ha voluto con la volontà imparare a spremacciare e poi lo ha fatto benissimo sei stata volonterosa e ognuno di noi deve volere il pensare per non entrare nell'oblio nella dimenticanza nella nostra vera immagine che è un'immagine cosmica non finiamo a questa dimensione fisica il nostro corpo fisico è come il mouse del computer in realtà il nostro fisico è dentro l'anima è dentro il mondo spirituale è all'interno delle gerarchie non è lontano la cosa interessante poi è che lei dice io voglio tornare lassù il lassù è la terra perché è scesa quindi nel pozzo e quindi per lei è stata una discesa in un mondo perché noi abbiamo questi parametri di sopra di sotto ma le forze spirituali operano anche all'interno della terra all'interno di noi stessi e quindi adesso che ho lavorato interiormente che ho compreso certe cose io adesso voglio tornare lassù e quindi voglio dare qualcosa di quello che io ho appreso a tutti gli altri e qui lei lo accompagna al portone e qua e c'è questa questa discesa questa cascata d'oro e dobbiamo pensare l'oro filosofico ormai è la bambina d'oro è l'anima umana che riluce è l'anima umana che è ritornata nella sua grandezza originaria è l'anima umana nella sua completa maestà e dignità è la rappresentazione appunto delle forze della luce viventi dove c'è un pensare vivente un sentire vivente un volere risvegliato e allora cosa accade che nella seconda parte abbiamo l'esperienza della fanciulla che invece era brutta e pelandrona alla quale non gliene frega niente fa finta di farsi male per far sprizzare questo sangue perché era una chiave in qualche modo questo elemento del sangue fa finta ma il suo atteggiamento nei confronti del pane non riesce a riconoscere quindi questo momento importante fondamentale il momento saturnio del calore dove si è formato l'elemento fisico non riesce a riconoscere tutto questo chiusa in una forma di egoità non riesce a riconoscere i doni delle gerarchie non c'è questo riflettere qui di fatto è rappresentato il modo in cui si dovrebbe operare sulla terra per poter riconoscere certe cose nel mondo spirituale così l'elemento delle mele e che scherzi io se no mi faccio male il farsi male quindi tante volte quando in effetti siamo spinti dall'amore dall'amore per l'azione che facciamo non perché dobbiamo ma perché vogliamo e ciò che è il nostro dovere arriviamo ad amarlo lo sentiamo liberamente in noi è ciò che ci necessita lei chiaramente non non ha questa attenzione per tutto quello che è stato il passaggio per quello che è la rappresentazione dell'eterico per l'elemento dell'astrale sul quale dovrà lavorare la sua astralità le sue caratteristiche la dividono completamente non le fanno riconoscere quindi delle condizioni che sono rappresentative del suo essere perché il pane è un aspetto di me perché l'albero delle mele è un aspetto di me e così la Frau Holle per qualche giorno la vede lavorare ma già dopo non si può far finta quando una persona fa nullone fa nullona quante persone iniziano una strada di lavoro perché curiose perché purtroppo quell'oro a cui vogliono arrivare è qualcosa che è collegato a un potere personale quindi vogliono arrivare alla conoscenza senza sforzarsi senza dare nulla vogliono aggiungere mentre molto spesso nella strada del lavoro è togliere è sottrarre è osservarsi è guardarsi quindi è lavorare di gran lena volerlo questo lavoro lei no non lo vuole fare vuole dormire e qui abbiamo una massa di anime purtroppo nella nostra società che vuole dormire che non vuole svegliarsi e quindi di contro cosa accade che quando faranno il passaggio nella soglia arriveranno poi entreranno nel mondo spirituale vero e proprio non saranno in grado di poter prendere questi doni ma addirittura quello che capita in certi casi dopo varie volte che si è nel mondo spirituale e si è stati nel buio arrivano dei doni che sono quelli delle potenze arimaniche luciferiche ovvero il dono per esempio di un'intelligenza senza amore di un egoismo grandissimo e quindi di una rigidità di una incapacità di pensiero l'incapacità di pensare è il dono oscuro di Arima l'intelligenza egoica è il dono oscuro di lucifero e quindi di fatto dopo ma debbono passare varie incarnazioni per cui c'è questo passaggio della soglia e poi successivamente l'entrata nel mondo spirituale dove chi non ha fatto un lavoro vede solo buio ma perché ma perché non vuole vedere non l'ha voluto vedere nella vita non ha voluto aprirsi a nulla quindi non ha risparmiato né il da sua parte fisica non ha in qualche modo percepito il suo corpo come un tempio come qualcosa di sacro che viene da una condizione saturnia lontana come progetto quindi non ha nemmeno avuto la possibilità di fare un lavoro sull'eterico che è collegato al temperamento mentre l'astrale è il carattere quindi in qualche modo è un grande lavoro quello che dobbiamo fare su noi stessi perché solo lavorando su noi stessi potremo poi veramente comprendere prendere con noi il mondo spirituale comprendere l'interiorità degli altri e allora le parole ci risuoneranno dentro diventeranno forze fecondatrici ma fino a che non arriva il momento di un vero e proprio lavoro di una rinascita di una purificazione tutto in qualche modo sarà appiccicato ecco perché la pece la pece è qualcosa che si appiccica tanto che a volte almeno nei termini romani qualche anno fa si diceva mi sono impeciato in una situazione o a volte oggi non è un termine che viene usato ma la pece è terrificante proprio perché non si stacca e quindi lei viene ricompensata secondo quello che in qualche modo ha realizzato nella vita quindi non hai operato secondo l'elemento della volontà sei stata una persona che ha preferito dormire il sonno della coscienza il pensiero pensato è tutta una rappresentazione di questo genere e quindi a un certo punto fraucolle la manda via a differenza dell'altra che decide di ritornare a casa non sa perché nella mezzanotte cosmica noi abbiamo il dovere di scendere lo sentiamo sentiamo questo richiamo invece fraucolle la manda via la espelle in qualche modo perché non ce la fa più e di fatto quando l'accompagna arriva questa colata di pece che non se ne andrà più via e questo personaggio carinissimo questo gallo gallo noi l'abbiamo incontrato nei musicanti di brema e se vi ricordate con il chicchi ricchi il gallo è colui che in effetti canta quando sorge il sole e quindi annuncia la luce e sarebbe possiamo dire il cantore dell'io e mentre dice la figlia d'oro è tornata torna qui nel caso invece della fanciulla brutta dice la figlia tutta sporca torna qui e qui viene detto fino a che vive non riuscirà a togliersi la pece di dosso proprio perché è la rappresentazione quasi potremmo dire di una corazza se noi vedessimo la nostra anima potessimo vedere come sia ridotta la nostra anima nei momenti in cui esprimiamo malevolenza nei momenti in cui siamo completamente staccati dagli altri e tutto quello che è intorno a noi non ci dà nessun interesse immaginate che queste sono atteggiamenti che formano la nostra anima che in qualche modo formano delle condizioni malate quindi la pece è proprio la rappresentazione di ciò che si è appiccicato a noi attraverso questi atteggiamenti distruttivi la non volontà è sporca perché in effetti la pulizia interiore è qualcosa che dovremmo fare costantemente momento dopo momento questo questo significa essere presenti quindi non la presenza nel pensiero per esempio se io penso male degli altri come se penso bene accadono delle cose meravigliose pensate quando una persona pensa male con odio a qualcuno è la prima cosa possiamo dire quest'oscurità entra in primis dentro di noi e tutto quello che noi pensiamo comunque ci ritorna quindi i nostri pensieri il più delle volte sono pensieri distruttivi e oggi siamo in un momento storico dove è molto importante essere presenti e avere emanate dei pensieri costruttivi evolutivi perché ci siamo tutti confrontando con l'elemento della paura e siamo tutti in effetti rendendoci conto di come una parte dell'umanità non voglia svegliarsi e non voglia sprimacciare vuole mantenere questa condizione di sonno e dobbiamo accettare anche questo proprio perché siamo nel mezzo di una prova epocale durante l'era dei pesci che è l'era dove il Cristo dovrà essere ritrovato come come Cristo cosmico come seconda persona della trinità come divinità dell'uomo come figlio come appunto umanità stessa che in lui può rilucere può trovare vivente in sé l'oro vivo la fine dell'operazione alchemica il bambino solare la purezza con la quale noi siamo stati contessuti dall'azione delle gerarchie attraverso l'amore del padre la parola del figlio che si è appunto manifestata pienamente nell'uomo nell'ogos quindi ritrovare il Cristo in noi è veramente la nuova iniziazione aperta a tutti non ci sono più templi ognuno di noi nella propria vita ognuno di voi può veramente incontrare questo momento questo punto di svolta quando cade la conocchia quando si entra nel pozzo nel momento della disperazione noi possiamo arrivare veramente alla vera e propria iniziazione è lì che comincia dalla disperazione da quello che può essere l'oscurità possiamo trovare la luce suprema di tutti i colori dell'arcobaleno bene ci sei ci sono domande allora no non ci sono commenti ma io avevo visto qualche giorno fa anche qualcuno che aveva commentato su facebook e diceva che in realtà le persone sono all'ascolto in modo una modalità molto attenta e presente e quindi molto spesso è per questo che non commentano lì per lì perché stanno proprio in estrema attenzione di quello che dici e quindi però lo so che ci sono perché lo vediamo insomma anche da io lo vedo dalle persone che sono collegate e quindi no non ci sono commenti quindi possiamo anche chiudere qui se non hai altro da aggiungere ovviamente sì io volevo aggiungere solo una cosa che noi abbiamo anche un'altra favola che non parla di frauolle ma che ha una stessa intonazione conosciuta nella tradizione italiana come il gatto mammone perché nel gatto mammone ugualmente si incontrano queste due ragazze di una però quella bella e saggia si sa il nome che si chiama Caterina e quindi sempre esiste questa matrigna gli facevano questi dispetti a questa Caterina che era bella brava e più facevano dispetti e più questa fanciulla diventava bella fino a che la madre la manda a prendere il setaccio nella casa delle fate cattive e quindi c'è tutta questa storia per cui lei implora la madre ti prego non mi mandare la casa delle fate cattive e per strada incontra questo vecchio quindi qui abbiamo sempre l'elemento l'aiuto da parte delle gerarchie che la ferma e le dice dove vai bella bambina e lei racconta tutta la sua storia e lui allora risponde guarda un attimo nella mia testa cosa vedi e lei guarda la testa fra i capelli e dice ma vedo solo perle ed oro e lui fa è quello che tu avrai e allora gli racconta quando tu quando tu busserai alla porta di queste fate loro ti diranno di mettere il dito all'interno non mettere il dito mettere un rametto perché loro te lo staccheranno e cosa accade che lei poi dopo quando entra in questa in questa casa vede tanti gatti dei gatti che lavavano dei gatti che stiravano dei gatti che cucinavano e lei aiuta tutti i gatti fino a che arriva il gatto mammone che chiede e quindi chiede a tutti gli altri gatti cosa hanno fatto cosa ha fatto questa fanciulla allora uno dice a me mi ha aiutato a stirare a me a cucinare insomma ognuno dice qualcosa e quindi lui lui dice ma tu quindi sei veramente una bravissima bambina ma sei anche bellissima e quindi ti voglio ricompensare quando uscirai e sentirai il gallo che canta voltati e vedrai sarai ricompensata infatti il gallo canta c'è una pioggia d'oro di perle e una stella brillante in fronte e quindi e poi c'è l'arrivo invece della dell'altra di quella cattiva che vuole di fatto le stesse cose però non riconoscerai in questo omino che sta al bordo del bosco una forza spirituale non si collegherà a questa forza spirituale per cui farai dispetti ai gatti e il gatto mammone quando sta per uscire dato che tutti si sono lamentati di lei le dice quando sentirai ragliare l'asino voltati e sarai ricompensata e a lei resterà al raglio dell'asino questa coda d'asino quindi questo elemento c'è un cambiamento ma la sostanza è sempre questa e va a finire che la bellezza di questa Caterina sempre più irradiante attira il principe che la sposerà quindi cioè questa è un'altra versione di possiamo dire che riprende la stessa tematica che è quella dell'aiuto dell'operosità del del giusto pensiero perché trova nella testa del vecchio perle d'oro quindi è una rappresentazione di ciò che in effetti lei può riconoscere in lui quindi la perla nasce dalla trasformazione del dolore quindi dall'esperienza dolorosa insomma questo mondo delle favole è importantissimo per quanto riguarda la via iniziatica infatti non dimentichiamo che Goethe scrisse la fiaba del serpente verde della bella Lilia e che tutta la scienza dello spirito tutta l'opera stessa del Goetheanum parte da quella favola dalla favola di Goethe quindi dovremmo riflettere su questo eh vedi questa italiana non la conoscevo infatti perché conosco meglio le favole dei Grimm avendo studiato avendo fatto liceo linguistico ho studiato anche letteratura tedesca quindi quelle le conosco meglio mentre invece questa versione italiana che hai raccontato non la conoscevo e quindi abbiamo aggiunto anche questo elemento allora adesso in questo momento c'è Nadia che ha commentato e dice mi sono collegata tardi vi riascolterò dall'inizio ci tenevo a salutarvi e a ringraziarvi come sempre siete unici grazie di cuore grazie a te Nadia grazie Nadia dal profondo del cuore perché è importante essere sempre tutti collegati dato che siamo in un momento epocale per l'umanità un momento infatti avremo dei periodi piuttosto difficili anche dal punto di vista astrologico sia per l'anello di sosta di Marte che va a confrontarsi con Plutone e poi ci sarà anche l'anello di sosta di Venere verso la primavera quindi l'umanità sarà a una svolta fondamentale ognuno di noi può fare moltissimo proprio migliorando lavorando su noi stessi possiamo fare moltissimo e soprattutto interessandoci profondamente agli altri non in modo superficiale quindi rendendo vivente queste iniziazioni che sono rappresentate dalle favole riconoscendole nella vita ordinaria perché noi siamo dentro una prova iniziatica sia generale che personale quindi è molto importante non dimenticarlo averlo sempre di fronte a noi eh sì e poi dal punto di vista astrologico proprio oggi fra qualche ora ufficialmente Plutone entrerà in acquario definitivamente perché c'era già entrato all'inizio dell'anno poi è ritornato in Capricorno e oggi proprio entra in acquario e l'acquario porta con sé questo elemento della condivisione con gli altri dell'occuparsi degli altri quindi ci ricolleghiamo anche a questo e comunque abbiamo parlato diverse volte dell'entrata di Plutone in acquario allora a questo punto ci diamo appuntamento per il dunque vediamo il calendario il 3 dicembre quindi sempre qui sul nostro canale Spreaker Petali di Loto e poi trovate anche la registrazione su YouTube da domani un grande abbraccio a tutti e soprattutto a te Maria grazie ad Adriano grazie grazie Stefania e grazie a tutti gli ascoltatori un grande bacio grazie